Una malattia silenziosa, spesso invalidante, che può ridurre se trascurata le aspettative di vita. Il diabete è una patologia in crescita, collegata nella sua forma più diffusa alla cattiva alimentazione e ad abitudini quotidiane scorrette. Si stima che in Italia una persona su 20 sia affetta da diabete, ma nel sud la diffusione della malattia è più accentuata. Tra i fattori di rischio più pericolosi c'è anzitutto l'obesità. Quasi l'80% dei malati presenta un sovrappeso patologico spesso causato da nutrizione squilibrata. Noi parliamo soprattutto di diabete tipo 2 perché è una malattia associata all'obesità. Circa il 75-80% di diabete tipo 2 sono obesi. Dopo i 60 anni la prevalenza aumenta al 9-10%, dopo i 70 addirittura al 15-16% della popolazione. Abbiamo una dieta mediterranea e i cui cardini sono importantissime, sono buoni, ottimi per quanto riguarda la prevenzione della malattia. Un altro fattore che la medicina ritiene scatenante per il diabete è la carenza di attività fisica, l'ostinata sedentarietà, la mancanza di occasioni quotidiane di movimento. Nessuno va in bicicletta, nessuno cammina a piedi e se voi vedete le macchine, una persona in ogni macchina. E la città probabilmente, insieme a Forza Rume, dove il numero dei motorini sono incredibilmente elevati, lo stimolo a fare attività fisica che non deve essere confuso con attività sportiva, lo stimolo è bassissimo. La giornata mondiale del diabete è un evento promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ridurre la diffusione della malattia. A Napoli saranno attivate diverse iniziative per educare i cittadini alla prevenzione. Dal 5 al 9 novembre si svolgeranno incontri nelle scuole col coinvolgimento di insegnanti e genitori, mentre sabato 10 in diverse piazze della città saranno allestiti punti di informazione per la valutazione dei rischi. È una patologia che per il fatto che coinvolge un ampio numero di abitanti è una malattia sociale. Il Comune di Napoli diciamo che sta facendo molto anche perché innanzitutto può fare educazione sanitaria, quindi assieme alle associazioni, assieme alle altre istituzioni e quindi cominciare a entrare bene nelle scuole, favorire per esempio, io ci sto lavorando abbastanza, l'apertura delle palestre scolastiche. I bambini di pomeriggio non devono stare davanti alla televisione ed essere condenitori passivi di messaggi che molte volte sono devastanti perché sono i messaggi consumistici. Domenica 11 novembre sul lungomare sfillerà un corteo che si concluderà in villa comunale dove saranno attive postazioni per lo screening del diabete.